Buonasera, per lei cosa sono le energie? Cosa sono le energie? Non lo so che cosa sono le energie, quello che siano una... Ah, mi senti? Perché c'è tanto rumore. Sì, 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 ti sento. L'energia, io credo che siano tante cose differenti, possono essere un desiderio che abbiamo, che si trasforma in energia per portarci a raggiungere quell'obiettivo, può essere l'influenza di qualcuno che ci sta vicino e che ci porta sia a un momento di felicità che a un momento di tristezza, insomma, le energie sono tutte le cose che ci si muovono attorno, che partono da dentro verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno. Perfetto, grazie mille. 10 secondi per 10 secondi.